I giovani amministratori pubblici della Puglia si formano non solo sui testi normativi, ma anche con una sana attività fisica e una colazione abbondante. Così si legge negli intendimenti del primo corso di alta formazione per amministratori junior promossa dalla sezione giovanile pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni, coordinata da Giuseppe Dintrono, dalla consigliera di parità della provincia di Baristella San Severino e dall'Associazione Giovani in Forma, presieduta da Irma Melini, e che vede Antenna Sud Media Partner. Non solo lezioni e confronti con docenti universitari, politici, esponenti del mondo della cultura. La scuola di formazione per gli amministratori, che si terrà nell'hotel dei Trulli di Alberobello da venerdì a domenica prossima, ha un calendario di attività ben preciso. Dalla colazione alla corsa alle 7 del mattino, fino ad arrivare alle lezioni vecchio stampo della giornata. La Summer School dell'Anci punta la forma fisica e mentale per aprire una nuova era di formazione ed aggiornamento per la giovane classe dirigente, ha detto uno dei condirettori scientifici del corso, l'onorevole Francesco Paolo Sisto, che con il presidente di Anci Puglia, Gino Perrone, ha presentato l'evento nello spazio espositivo di Confindustria alla Fiera dell'Evante di Bari. Tra i relatori del corso i politici Maurizio Lupi, Raffaele Fitto, Giuseppe Fioroni e Lorenzo Cesa, ma anche giudici amministrativi e funzionari pubblici.